Il tempo di leccarsi le ferite è finito. Domani, dalle 15.30 in poi, l'Avellino di Pazienza dovrà cominciare il tempo delle analisi per provare a ricostruire cosa non è andato nella partita di ieri, capire gli errori e prendere anche il buono dei 95 minuti del partenio. Allora, solo allora, potrà cominciare il futuro. L'obiettivo è puntare il Benevento, farlo con decisione, con caparbietà e con la convinzione che non si può più perdere il treno. La posta in palio è troppo alta. Da valutare come i rientranti, in particolare Cionec e Tito, abbiano smaltito l'adrenalina della partita ufficiale e quanti minuti nelle gambe abbiano i due giocatori, Corrigione e Benedetti, che completano il quadro di una rosa che ha bisogno di innesti in difesa in centrocampo. Naturalmente è da valutare anche cosa accadrà in questa settimana a Lorenzo Sgarbi. L'attaccante toglierà i punti, poi bisognerà capire con quali e quali tempi riuscirà ad essere reintegrato in gruppo. Intanto, mercoledì e giovedì sarà anche il tempo delle decisioni sul fronte dei tifosi. È atteso per la giornata di mercoledì, in particolare, la riunione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive per la prevendita in vista del derby di domenica contro il Benevento. Nella giornata successiva, invece, è atteso il GOS. Prima di questi due eventi non potrà partire la prevendita dei tagliandi per il Ciro Vigorito. Entrambe le operazioni restano sul tavolo, ma soprattutto non si esclude un divieto di trasferta per i tifosi biancoverdi.